Continua il percorso verso il ritorno alla normalità d'Ancarano, per quello che riguarda poi gli edifici pubblici, questa volta parliamo di un lavoro importante che sta per partire per la vecchia sede del Comune. Sì, rientra in una programmazione già prima del terremoto, eravamo stati beneficiari di un contributo a seguito di un bando regionale, quindi sono stati assegnati 750 mila euro per espletare la gara, la gara che è stata svolta presso la CUC dell'Unione dei Comuni, risultata la ditta Marano a giudicarsi appunto i lavori e di conseguenza in questi giorni stanno per iniziare. Tempistica verso il ritorno della sede comunale nella sua ubicazione naturale? Credo che in previsione siamo tra un anno e mezzo e due, nel senso che sono lavori importanti da svolgere, sono lavori che poi dovranno tener conto anche di quelle che sono le condizioni contemporanee, su quello che è anche successo, quindi da adesso in poi ci concentreremo su queste attività perché comunque la casa municipale è anche la casa di tutti i concittadini e i concittadini, in quanto è appunto il luogo per eccellenza, il luogo dove ogni persona può recarsi in uno stato di necessità. Nello specifico quali erano i danni principali che aveva seguito la sede comunale? Ma diciamo che precedentemente le attività di programmazione si erano concentrate sull'adeguamento e sul punto strutturale dell'edificio, quindi tutti interventi già programmati. A seguito del sisma ci sono state alcune, diciamo, lievi lesioni o comunque alcune situazioni registrate che hanno portato all'inagibilità e quindi allo spostamento delle attività pubbliche presso l'auditorium. Comunque diciamo quello che si è registrato poi rientra nella programmazione già fatta precedentemente, nella progettazione già svolta precedentemente, quindi diciamo in linea generale siamo in linea con quello che già si è programmato.